Dialogo 1 Mantenere la romantica parte 1 In questa prima parte della conversazione, Sara e Marco discutono di consigli per mantenere la romantica all'interno di una relazione. Esplorano l'importanza della comunicazione, delle sorprese e del tempo di qualità insieme. Ciao Marco. Oggi vorrei parlare di come mantenere la romantica all'interno di una relazione. Cosa ne pensi? Ciao Sara. Penso che sia un argomento molto interessante. La romantica è fondamentale per mantenere viva la passione e la connessione nella relazione. Quali consigli vorresti condividere? Uno dei consigli più importanti è la comunicazione aperta e sincera. È fondamentale essere disposti a condividere i propri sentimenti e bisogni con il partner. Concordo. Sara. La comunicazione è la chiave per mantenere una relazione sana e felice. Dobbiamo essere aperti ad ascoltare il nostro partner e ad esprimere ciò che proviamo in modo rispettoso. Esatto. Marco. Inoltre, è importante mostrarsi apprezzamento reciproco. Dobbiamo dire al nostro partner quanto ci tiene e quanto lo amiamo. Assolutamente. Sara. Spesso diamo per scontato le persone che abbiamo accanto. Ma è fondamentale esprimere gratitudine e riconoscimento per le cose che fanno per noi. Hai ragione. Marco. Un altro consiglio è quello di sorprendere il partner. Le sorprese possono mantenere viva la romantica e rendere la relazione speciale. Concordo pienamente. Sara. Sorprese come regali inaspettati, cene romantiche o piccole attenzioni possono far sentire il partner amato e desiderato. Esattamente. Marco. Le piccole cose contano molto. Anche un semplice messaggio d'amore o una lettera romantica possono fare la differenza. Sono d'accordo, Sara. È importante trovare il tempo di qualità da trascorrere insieme. Dobbiamo fare attività che ci piacciono entrambi e creare momenti speciali che ci permettano di connetterci. Assolutamente. Marco. Trascorrere del tempo di qualità insieme ci aiuta a rafforzare il legame e a creare nuovi ricordi. Possiamo fare passeggiate romantiche. Guardare un film o fare una gita fuori città. Sono ottimi suggerimenti, Sara. Inoltre, è importante mantenere l'intimità fisica nella relazione. L'espressione fisica dell'amore e dell'affetto è fondamentale per mantenere viva la romantica. Esatto. Marco. L'intimità fisica crea un legame profondo tra i partner. Dobbiamo essere aperti a esplorare e a soddisfare i bisogni del nostro partner. Concordo pienamente, Sara. La romanticità è un impegno costante e richiede cura e attenzione. Dobbiamo essere consapevoli delle esigenze del nostro partner e impegnarci a rendere la relazione speciale ogni giorno. Hai ragione. Marco. Mantenere la romantica richiede impegno da entrambe le parti. Ma i risultati ne valgono sicuramente la pena. Non vedo l'ora di condividere altri consigli nella prossima parte della conversazione. Anch'io, Sara. È stato un piacere parlare di questi consigli per mantenere la romantica. Spero che anche altri studenti possano trarre beneficio da questa conversazione e migliorare le loro relazioni. Bentornati alla seconda parte della nostra conversazione sulla mantenere la romantica. Marco. Vorrei parlarti dell'importanza della comprensione reciproca nella relazione. Cosa ne pensi? Ciao Sara. Sono d'accordo. La comprensione reciproca è essenziale per mantenere una connessione profonda con il nostro partner. Dobbiamo cercare di capire e accettare le differenze tra di noi. Esattamente. Marco. Ognuno di noi ha le proprie peculiarità e modi di pensare. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze e a essere pazienti con il nostro partner. Concordo. Sara. Inoltre, la condivisione delle responsabilità è fondamentale per mantenere l'equilibrio nella relazione. Dobbiamo lavorare insieme per gestire le incombenze quotidiane e le responsabilità familiari. Hai ragione. Marco. Quando entrambi i partner si sentono coinvolti e responsabili, si crea un senso di reciprocità e collaborazione. Possiamo dividere le faccende domestiche e condividere il carico di lavoro. Esatto. Sara. La condivisione delle responsabilità ci permette di avere più tempo e spazio per dedicarci alla romantica. Dobbiamo trovare un equilibrio tra le responsabilità quotidiane e il tempo da trascorrere insieme. Assolutamente. Marco. Inoltre, l'avventura è un elemento emozionante da incorporare nella relazione. Dobbiamo cercare nuove esperienze insieme e fare cose fuori dalla routine. Concordo pienamente, Sara. L'avventura ci permette di scoprire nuove passioni e di vivere momenti indimenticabili insieme. Possiamo pianificare viaggi, provare nuovi hobby o fare attività all'aria aperta. Esattamente. Marco. L'avventura ci aiuta a mantenere la vivacità e l'eccitazione nella relazione. Possiamo cercare nuove sfide da affrontare insieme e sostenere reciprocamente. Sono d'accordo, Sara. Inoltre, è importante fare degli sforzi per ravvivare la romantica. Possiamo organizzare cene romantiche, scrivere note d'amore o organizzare sorprese speciali per il nostro partner. Hai ragione. Marco. L'importante è fare piccoli gesti quotidiani per far sentire il nostro partner speciale. Anche una semplice parola gentile o un abbraccio possono fare la differenza. Concordo pienamente, Sara. La romantica richiede impegno costante da parte di entrambi i partner. Dobbiamo essere creativi e mantenere viva la passione e l'affetto. Esattamente. Marco. Mantenere la romantica richiede lavoro. Ma il risultato è una relazione felice e soddisfacente. Non vedo l'ora di condividere altri consigli nella prossima parte della conversazione. Anch'io, Sara. Spero che questi consigli siano utili per i nostri compagni di studio e per tutti coloro che vogliono mantenere viva la romantica nella loro relazione. Benvenuti alla terza e ultima parte della nostra conversazione sulla mantenere la romantica. Oggi vorrei parlarti dell'importanza dell'empatia nella relazione. Cosa ne pensi? Marco? Ciao Sara. L'empatia è fondamentale per comprendere e supportare il nostro partner. Dobbiamo essere in grado di metterci nei suoi panni e di ascoltarlo con attenzione. Esattamente. Marco. L'empatia ci aiuta a connetterci emotivamente con il nostro partner e a comprendere le sue esigenze e desideri. Dobbiamo essere presenti e disponibili per lui. Concordo. Sara. Inoltre, le sorprese possono ravvivare la romantica nella relazione. Dobbiamo cercare di organizzare momenti speciali o piccole sorprese che rendano il nostro partner felice. Hai ragione. Marco. Le sorprese dimostrano che ci preoccupiamo e che vogliamo fare qualcosa di speciale per il nostro partner. Possiamo pianificare una cena a sorpresa. Un regalo inaspettato o una gita fuori città. Esatto. Sara. Le sorprese creano un'atmosfera di anticipazione e eccitazione nella relazione. Dobbiamo essere creativi e pensare a cose che siano significative per il nostro partner. Assolutamente. Marco. Infine. Il tempo di qualità è un elemento chiave per mantenere la romantica. Dobbiamo dedicare del tempo esclusivamente al nostro partner. Senza distrazioni esterne. Concordo pienamente. Sara. Il tempo di qualità ci permette di rafforzare il legame e di creare ricordi speciali. Possiamo fare attività che entrambi amiamo o semplicemente rilassarci insieme e parlare. Esattamente. Marco. È importante mettere da parte il tempo per il nostro partner e dimostrargli che è una priorità nella nostra vita. Possiamo pianificare delle serate romantiche o delle escursioni insieme. Sono d'accordo, Sara. Inoltre, dobbiamo essere affettuosi e dimostrare il nostro amore e il nostro affetto al partner. Gli abbracci, i baci e le parole dolci sono essenziali per mantenere viva la romantica. Hai ragione. Marco. La fisicità e l'affetto sono elementi fondamentali nella relazione. Dobbiamo trovare modi per esprimere il nostro amore e la nostra attrazione fisica verso il nostro partner. Concordo pienamente, Sara. Mantenere la romantica richiede impegno costante da entrambe le parti. Dobbiamo essere consapevoli delle esigenze del nostro partner e mettere in pratica queste strategie nella nostra vita quotidiana. Esatto. Marco. Spero che i nostri consigli possano essere utili per i nostri compagni di studio e per chiunque voglia mantenere una relazione romantica e soddisfacente. Anch'io, Sara. È stato un piacere discutere di questi consigli con te. Spero che possano ispirare molte persone a lavorare sulla loro relazione e a mantenere viva la romantica. Grazie. Marco. Spero che queste parole siano d'aiuto per tutti coloro che cercano consigli sulla romantica. Ricorda sempre di dedicare tempo e impegno alla tua relazione. Per favore metti mi piace e iscriviti al canale. Ci aiuta davvero molto. Grazie. Dialogo 2 Idee imprenditoriali dei sogni. In questa conversazione, Marco e Laura parlano delle loro idee imprenditoriali dei sogni. Condividono i loro progetti e le loro aspirazioni per il futuro. Ciao Laura. Hai mai pensato a quali potrebbero essere le tue idee imprenditoriali dei sogni? Ciao Marco. Assolutamente sì. Ho sempre desiderato avviare una piccola azienda di produzione di cosmetici naturali. Vorrei creare prodotti di bellezza che siano sia efficaci che rispettosi dell'ambiente. Wow. Sembra un'idea fantastica. Ci sono sempre più persone che si interessano ai prodotti naturali e biologici. Penso che il tuo business potrebbe avere molto successo. Grazie. Marco. Sono appassionata della cura della pelle e credo fermamente nell'utilizzo di ingredienti naturali. Mi piacerebbe sviluppare formulazioni uniche che siano gentili con la pelle e l'ambiente. Hai qualche idea su quali prodotti vorresti creare? Sì. Mi piacerebbe iniziare con una linea di creme idratanti e oli per il viso, utilizzando ingredienti come oli vegetali e estratti di piante. Poi vorrei espandere la gamma includendo prodotti per il corpo e per i capelli. Suona davvero interessante. Sono sicuro che molte persone sarebbero entusiaste di utilizzare prodotti naturali e personalizzati. Sì. Spero davvero di riuscire a creare una connessione con i miei clienti e offrire loro prodotti che rispondano alle loro esigenze specifiche. E tu, Marco, hai qualche idea imprenditoriale dei sogni? Assolutamente. Ho sempre sognato di aprire un caffè accogliente e unico. Vorrei creare un ambiente rilassante dove le persone possano gustare caffè di alta qualità e deliziose pietanze fatte in casa. Mi piace molto l'idea di un caffè accogliente. Penso che sia un luogo dove le persone possono incontrarsi, lavorare o semplicemente rilassarsi. Esatto. Vorrei creare uno spazio che diventi un punto di riferimento per la comunità locale. Mi piacerebbe offrire anche eventi come serate a tema, degustazioni di caffè e corsi di preparazione. Penso che sarebbe un grande successo. Molte persone amano l'atmosfera dei caffè e apprezzano la qualità di un buon caffè. Sono sicuro che il tuo caffè diventerebbe un luogo molto popolare. Grazie, Marco. Spero davvero di poter realizzare questo sogno un giorno e creare un'esperienza memorabile per i miei clienti. Ti auguro tutto il successo possibile, Laura. Sono sicuro che con la tua passione e dedizione riuscirai a raggiungere i tuoi obiettivi imprenditoriali. Grazie, Marco. Apprezzo il tuo sostegno. E tu? Hai altre idee imprenditoriali che vorresti realizzare? In realtà, ho anche pensato a un servizio di consegna di cesti regalo personalizzati. Vorrei offrire cesti regalo curati e pensati per diverse occasioni, come compleanni, anniversari e festività. Marco. Mi piace molto l'idea dei cesti regalo personalizzati. È un'opzione davvero speciale per sorprendere le persone nelle occasioni speciali. Grazie, Laura. Penso che i cesti regalo personalizzati possano essere una soluzione perfetta per coloro che cercano qualcosa di unico e significativo da regalare. Hai già un'idea di cosa includere nei cesti regalo? Sì. Sto pensando di creare cesti tematici che possano adattarsi alle preferenze e agli interessi delle persone. Ad esempio, potrei creare un cesto con prodotti gourmet per gli amanti del cibo o un cesto con articoli per il relax e il benessere, per coloro che amano prendersi cura di se stessi. Mi piace molto l'approccio personalizzato. Penso che questo possa rendere i tuoi cesti regalo davvero speciali e apprezzati dalle persone che li ricevono. Sì. Credo che la personalizzazione sia fondamentale quando si tratta di regali. Vorrei anche offrire la possibilità di aggiungere un biglietto di auguri personalizzato, per rendere il regalo ancora più speciale. Hai pensato alle sfide che potresti incontrare avviando il tuo servizio di consegna di cesti regalo? Sicuramente ci sono diverse sfide da considerare. Una delle principali potrebbe essere la gestione delle forniture, e la selezione dei prodotti di alta qualità da includere nei cesti. Inoltre, la promozione e la pubblicità del servizio, saranno importanti per raggiungere potenziali clienti. Sì. È importante pianificare attentamente il processo di approvvigionamento e trovare fornitori affidabili. La promozione online potrebbe essere un ottimo modo per far conoscere il tuo servizio. Esatto. Penso che il sito web e i social media saranno canali importanti per raggiungere il pubblico, e mostrare i cesti regalo disponibili. Hai qualche idea su come promuovere il tuo servizio? Sto pensando di collaborare con negozi locali, e partecipare a eventi di mercato per far conoscere i miei cesti regalo. Inoltre, potrei offrire sconti o promozioni speciali per i clienti che ritornano. Sono sicura che la qualità dei tuoi cesti regalo e il tuo impegno per offrire un servizio eccellente ti aiuteranno a distinguerti sul mercato. Grazie. Laura. Credo che sia importante mettere passione in ciò che facciamo e fare del nostro meglio per soddisfare le aspettative dei clienti. Assolutamente d'accordo. Sono convinta che sia fondamentale avere una visione chiara e un forte impegno per rendere realtà le nostre idee imprenditoriali dei sogni. Esattamente. Laura. Dobbiamo anche essere pronti ad affrontare le sfide lungo il percorso, e ad adattarci alle esigenze del mercato. Sono davvero felice di aver condiviso le nostre idee imprenditoriali dei sogni. Ci aiutiamo a vicenda a sviluppare le nostre passioni e a realizzare i nostri obiettivi. Sì. È stato molto stimolante discutere di queste idee con te. Mi auguro che entrambi possiamo raggiungere il successo nei nostri progetti imprenditoriali. Laura. Mi ha fatto molto piacere parlare delle nostre idee imprenditoriali dei sogni. Mi ha ispirato a continuare a lavorare duro per realizzare il mio progetto. Grazie, Marco. È stato un piacere discutere con te delle nostre passioni imprenditoriali. Sono sicura che raggiungerai grandi risultati con il tuo servizio di cesti regalo personalizzati. Mi auguro davvero di poterlo fare. E tu? Hai qualche altra idea imprenditoriale che vorresti sviluppare in futuro? Sì. Ho anche un'altra idea imprenditoriale che mi piacerebbe esplorare. Vorrei aprire un negozio di prodotti artigianali locali. Penso che sia importante promuovere il talento locale e offrire ai clienti prodotti unici e di alta qualità. Mi piace molto l'idea di un negozio di prodotti artigianali locali. È un modo fantastico per sostenere la comunità e valorizzare il lavoro degli artigiani locali. Esattamente. Vorrei creare uno spazio accogliente dove le persone possano scoprire oggetti unici e incontrare direttamente gli artigiani. Hai già qualche idea su quali prodotti vorresti includere nel tuo negozio? Vorrei offrire una vasta selezione di prodotti artigianali, come gioielli fatti a mano, oggetti per la casa, prodotti di bellezza naturali e opere d'arte locali. Sembra un'offerta molto interessante. Penso che il tuo negozio possa diventare un punto di riferimento per gli amanti dell'artigianato locale. Grazie, Marco. Spero davvero di poter realizzare questo progetto e di poter condividere la bellezza dell'artigianato locale con il pubblico. Sono sicuro che avrai successo, Laura. Hai passione per ciò che fai e hai una visione chiara del tuo progetto. Grazie per le tue parole di incoraggiamento, Marco. Penso che sia importante sostenersi a vicenda nel perseguire i nostri sogni imprenditoriali. Assolutamente. Dobbiamo continuare a motivarci reciprocamente e superare gli ostacoli che incontriamo lungo il percorso. Sì. Ogni sfida sarà un'opportunità per crescere e imparare. Non dobbiamo mai smettere di crederci. Esatto, Laura. Dobbiamo essere perseveranti e flessibili, pronti ad adattarci alle nuove situazioni e opportunità che si presentano. Sono felice di aver condiviso queste idee con te, Marco. Mi hai ispirato a continuare a lavorare per realizzare i miei sogni imprenditoriali. Lo stesso vale per me, Laura. Spero che entrambi possiamo raggiungere il successo nelle nostre avventure imprenditoriali. Auguro il meglio a entrambi, Marco. Continuiamo a sognare e a fare tutto il possibile per realizzare i nostri obiettivi. Assolutamente, Laura. Sono fiducioso che, con impegno e determinazione, raggiungeremo grandi risultati. Per favore metti mi piace e iscriviti al canale. Ci aiuta davvero molto. Grazie. Dialogo 3 Una giornata indimenticabile al parco divertimenti. Marco e Giulia raccontano le loro esperienze e i momenti memorabili trascorsi con la famiglia durante le visite ai parchi divertimenti. Si scambiano emozioni e aneddoti divertenti, riflettendo sulla bellezza di queste avventure familiari. Ciao Giulia. Oggi vorrei parlarti delle nostre avventure in famiglia ai parchi divertimenti. Cosa ne pensi? Ciao Marco. Mi sembra un argomento divertente. Mi piacerebbe sentire le tue storie. Di quale parco divertimenti vorresti parlare? Beh, uno dei nostri preferiti è sicuramente Gardaland. Ricordo una volta in cui siamo saliti sulla montagna russa più alta del parco. Ero così emozionato. Oh, sì, anch'io ricordo quel giorno. Ricordo che eri spaventato all'inizio, ma poi hai urlato di gioia durante la discesa. È stato divertentissimo. Esatto. Quell'adrenalina che si sente mentre si scende a tutta velocità è indimenticabile. Mi ha fatto sentire vivo. E ricordi quando abbiamo partecipato alla spettacolare parata con i personaggi dei cartoni animati? I nostri figli erano così entusiasti. Sì, è stato fantastico vederli sorridere e ballare con i loro personaggi preferiti. Quella giornata è stata davvero magica. Penso che sia uno dei motivi per cui amo le gite ai parchi divertimenti. Vedere la gioia e la felicità nei volti dei nostri figli. È un'esperienza unica. Assolutamente, Giulia. Ed è bello poter condividere queste esperienze speciali con tutta la famiglia. Ricordo anche quando abbiamo provato le attrazioni dell'area acquatica. Era una giornata calda e ci siamo divertiti tantissimo scivolare giù dagli scivoli d'acqua. Sì, ci siamo rinfrescati e abbiamo fatto un sacco di risate. È stato fantastico vedere tutti ridere e divertirsi insieme. C'è qualcosa di magico nei parchi divertimenti, vero? Sono luoghi dove ci si può davvero lasciar trasportare dalla felicità e dalla spensieratezza. Concordo pienamente, Marco. È come tornare bambini per un giorno, dimenticando tutti i problemi e semplicemente godersi il divertimento. Esattamente. È bello poter creare ricordi così speciali con la famiglia. Non vedo l'ora di organizzare la prossima visita al parco divertimenti. Giulia, parlando dei parchi divertimenti, non posso dimenticare gli spettacoli incredibili che abbiamo visto. Ricordo un'epica esibizione di fuochi d'artificio al termine della giornata. Era davvero spettacolare. Sì, Marco. Le luci, i colori e i fuochi d'artificio che illuminavano il cielo notturno erano mozzafiato. Era come essere in un sogno. E ricordi anche il fantastico spettacolo di acrobazie che abbiamo visto? Gli artisti facevano salti incredibili e gesti acrobatici che sembravano impossibili. Sì. Ero sbalordita dalle loro abilità. Erano così bravi e agili. Mi sono sentita ispirata a provare nuove sfide nella mia vita. Proprio così, Giulia. Gli spettacoli ci permettono di sognare, di immaginare cosa potremmo fare se avessimo quelle abilità straordinarie. È vero, Marco. I parchi divertimenti ci offrono anche una grande varietà di cibo delizioso. Ricordo quando abbiamo gustato i popcorn appena fatti e il dolce profumo degli zuccherosi waffle. Sì. E non possiamo dimenticare le famose polpette di carne che abbiamo mangiato al chiosco. Erano succulente e piene di sapore. Ne voglio ancora una. Quel cibo è una parte essenziale dell'esperienza al parco divertimenti. È un'occasione per concedersi qualche sfizio e godersi un momento di piacere. Assolutamente. Mangiare del cibo delizioso rende la giornata ancora più speciale. E non importa se ci si sporca un po', è tutto parte del divertimento. Esatto. Marco. Ci si può divertire anche con un po' di cioccolato o salsa sul viso. È tutto parte del divertimento e dei ricordi che creiamo insieme. Sono felice di poter condividere queste esperienze con te, Giulia. Ogni volta che andiamo al parco divertimenti, creiamo ricordi indimenticabili che rimarranno nel nostro cuore per sempre. Sono d'accordo, Marco. Non vedo l'ora di organizzare la prossima avventura al parco divertimenti con te e la nostra meravigliosa famiglia. Giulia. Pensando a tutte le avventure che abbiamo vissuto nei parchi divertimenti, mi rendo conto di quanto siano importanti i momenti che trascorriamo insieme come famiglia. Hai ragione, Marco. Le nostre visite ai parchi divertimenti non sono solo divertenti, ma ci permettono anche di rafforzare i legami familiari e creare ricordi che dureranno per sempre. Esattamente. Sono grato per ogni risata, ogni grido di gioia e ogni abbraccio condiviso durante queste giornate speciali. Anch'io, Marco, sono grata per l'opportunità di condividere queste esperienze con te e con i nostri figli. È un privilegio poter vedere i loro volti illuminarsi di gioia mentre si divertono. È proprio così. I parchi divertimenti sono un luogo dove possiamo scappare dalla routine quotidiana e immergerci in un mondo di divertimento e avventura. E il bello è che non importa l'età che abbiamo, ci divertiamo tutti insieme. È un momento in cui possiamo lasciarci andare e vivere il presente. Hai ragione, Giulia. In quei momenti, siamo tutti come bambini, sorridiamo, giochiamo e dimentichiamo i nostri pensieri e preoccupazioni. È una pausa rigenerante dalla vita quotidiana. Ci permette di ricaricare le energie e di apprezzare le piccole cose che rendono la vita meravigliosa. E anche se le giornate al parco divertimenti possono essere stancanti, ne vale assolutamente la pena. Il sorriso sui volti dei nostri figli vale tutto lo sforzo. Assolutamente, Marco. La felicità dei nostri figli è la nostra più grande ricompensa. E credo che questi momenti trascorsi insieme contribuiscano a creare una famiglia forte e unita. Sono d'accordo al 100%, Giulia. Siamo fortunati ad avere l'opportunità di creare ricordi così preziosi insieme. E non vedo l'ora di creare ancora molti altri ricordi indimenticabili nei parchi divertimenti, con te e con i nostri figli. Sono i momenti che renderanno la nostra famiglia ancora più speciale. Lo penso anch'io, Giulia. Siamo una squadra e insieme possiamo affrontare qualsiasi avventura che la vita ci riservi. Per favore metti mi piace e iscriviti al canale. Ci aiuta davvero molto. Grazie. Dialogo 4 I miei spettacoli teatrali o musical preferiti. In questa conversazione, Alessi e Matteo parlano dei loro spettacoli teatrali o musical preferiti. Condividono le emozioni e le storie che li hanno colpiti e discutono delle performance indimenticabili che hanno visto. Ciao Matteo. Sai. Sono una grande amante del teatro e dei musical. Mi piacerebbe sapere quali sono i tuoi spettacoli preferiti. Hai qualche raccomandazione da farmi? Ciao Alessia. Sì, anch'io amo il teatro e i musical. Uno dei miei spettacoli preferiti è, Il Fantasma dell'Opera. È un classico che mi ha rapito con la sua storia affascinante e la musica mozzafiato. Il Fantasma dell'Opera. È davvero uno spettacolo iconico. La musica di Andrew Lloyd Webber è semplicemente meravigliosa. Mi ricordo di quando l'ho visto per la prima volta. Mi ha lasciato senza parole. Sì, la colonna sonora è davvero straordinaria. È riuscita a trasmettere tutta l'intensità e le emozioni della storia. Mi sono sentito coinvolto fin dal primo momento. È un'esperienza indimenticabile. Concordo pienamente. Un altro spettacolo che adoro è, Le Miserables. È un musical epico che affronta temi profondi come l'amore, la giustizia e la redenzione. Le canzoni sono potenti e la trama toccante. Le Miserables. È uno dei miei preferiti anche io, Alessia. La storia è coinvolgente e i personaggi sono così ben definiti. Ricordo di aver pianto durante alcune scene. È uno spettacolo che ti lascia un segno nel cuore. È vero, Matteo. Alcuni spettacoli teatrali o musicals riescono a toccare le corde più profonde dell'anima. Mi piace quando un'opera d'arte è in grado di trasmettere emozioni così forti. Hai perfettamente ragione, Alessia. Un altro spettacolo che mi ha colpito è, Romeo e Giulietta. La storia d'amore travagliata e le coreografie coinvolgenti rendono questo spettacolo davvero speciale. Romeo e Giulietta. È un classico intramontabile. Mi piace come l'amore dei protagonisti sia rappresentato con tanta passione e intensità. È un racconto che continua a incantare le persone da secoli. Assolutamente, Alessia. È incredibile come queste storie temporali possano ancora emozionare e toccare il cuore di così tante persone. È il potere del teatro e dei musical. Sì. Il teatro e i musical hanno il potere di portarci in mondi diversi e farci vivere esperienze straordinarie. Mi fa sempre emozionare pensare a tutte le performance che ho visto. È davvero speciale avere la possibilità di assistere a spettacoli teatrali o musicals. Ogni volta che entro in un teatro, sento un'emozione unica e so che vivrò un'esperienza magica. Sono d'accordo. Matteo. È un'esperienza che non ha eguali. Spero di poter continuare a scoprire nuovi spettacoli e lasciarmi affascinare da storie e performance straordinarie. Anche io, Alessia. Continuiamo a nutrire la nostra passione per il teatro e i musical. Sono un tesoro che possiamo continuare a scoprire e condividere con gli altri. Matteo. Parlavamo dei nostri spettacoli teatrali o musical preferiti. Un altro che mi ha lasciato senza parole è stato. Il re leone. La storia emozionante e le incredibili coreografie rendono questo spettacolo davvero magico. Il re leone, è un capolavoro, Alessia. Mi ricordo di quando ho visto il musical per la prima volta, sono rimasto senza parole. La scenografia, i costumi e le canzoni sono semplicemente straordinari. Sì. È incredibile come riescano a trasportarci nella savana africana e a farci vivere la storia di Simba. Mi sono emozionata durante il numero musicale, l'attesa, e mi sono commossa alla fine. Sono d'accordo. Quel numero è davvero toccante. Mi ha trasmesso una sensazione di speranza e mi ha fatto riflettere sul coraggio di affrontare le sfide e ritrovare la propria strada. È stato un momento indimenticabile. Assolutamente. Matteo, un altro spettacolo che mi ha rapito è stato. Chicago. La sua atmosfera noir. Le coreografie sensuali e le interpretazioni intense rendono questo spettacolo unico nel suo genere. Chicago, è davvero un'esperienza unica. Mi ha fatto entrare in un mondo oscuro e affascinante, pieno di intrighi e passioni. Le performance degli attori sono state incredibili, mi hanno tenuto incollato alla poltrona. Sì. Ho adorato le coreografie dinamiche e le canzoni iconiche. All That Jets. È stata una performance mozzafiato. Mi sono sentita coinvolta nello spirito della città e nella vita dei personaggi. Hai perfettamente ragione, Alessia. I musicals hanno il potere di coinvolgerci in storie intense e di farci sentire parte di un mondo diverso. È un'esperienza che mi riempie di gioia e mi fa sentire vivo. Sono d'accordo. Matteo, il teatro e i musicals fanno il potere di toccare le nostre emozioni più profonde. Mi sento grata per tutte le performance che ho avuto la fortuna di vedere. Anch'io sono grato, Alessia. Mi hanno regalato momenti di pura magia e mi hanno fatto scoprire nuove storie e nuove forme d'arte. Spero che possiamo continuare a vivere queste esperienze incredibili. Continuiamo a coltivare la nostra passione per il teatro e i musicals. Matteo. È un mondo meraviglioso che ci offre emozioni senza confini. Non vedo l'ora di scoprire nuovi spettacoli e di lasciarmi affascinare ancora una volta. Sì, Alessia. Spero che il teatro e i musicals possano continuare a ispirarci e a portarci in mondi fantastici. Continuiamo a seguire la nostra passione e a condividere la bellezza delle performance con gli altri. Matteo. Il teatro e i musicals sono una parte importante della mia vita. Mi chiedo. Cosa significa per te l'arte teatrale e come ha influenzato la tua vita? Alessia. L'arte teatrale è un rifugio per me. Quando entro in un teatro, mi sento come se stessi entrando in un mondo completamente diverso. Mi permette di scappare dalla realtà e di immergermi in storie e emozioni profonde. Sono d'accordo. Matteo. Il teatro è come una finestra aperta su mondi immaginari e storie straordinarie. Mi offre un'opportunità di evasione e di connessione emotiva con i personaggi e le trame. Esattamente. Alessia. Il teatro mi ha insegnato a guardare oltre le apparenze e a capire la complessità dei personaggi e della vita stessa. Mi ha fatto riflettere sulle sfumature dell'animo umano. È meraviglioso come il teatro possa offrire una prospettiva unica sulla condizione umana. Mi ha insegnato a empatizzare con personaggi di diversi contesti e a comprendere le sfide che affrontano. Mi rendo conto che il teatro ha il potere di unire le persone, sia sul palco che tra il pubblico. Durante uno spettacolo, ci si ritrova in un luogo condiviso, condividendo emozioni e reazioni con gli altri spettatori. Sì. Matteo. Assistere a uno spettacolo dal vivo è un'esperienza unica. Si crea una connessione speciale tra gli attori e il pubblico. È un'energia che si sprigiona nell'aria e che rende ogni performance unica e irripetibile. Concordo pienamente. Alessia. È la magia dell'arte teatrale. Ogni spettacolo è diverso, con le sue imperfezioni e le sue interpretazioni uniche. Mi piace l'idea che ogni performance sia un'esperienza unica nel tempo e nello spazio. È proprio questo. Matteo. Ogni spettacolo è unico e irripetibile. Mi sento privilegiata di poter assistere a queste performance dal vivo e di poter condividere quelle emozioni con gli attori e gli altri spettatori. Anch'io, Alessia. Mi sento grato di avere la possibilità di immergermi nel mondo del teatro e di poter apprezzare il talento degli attori e degli artisti dietro le quinte. È un'arte che ci arricchisce e ci fa riflettere. Continuiamo a nutrire la nostra passione per il teatro e i musicals, Matteo. Siamo fortunati a vivere in un'epoca in cui possiamo avere accesso a così tante forme d'arte e spettacoli meravigliosi. Sì, Alessia. Continuiamo a scoprire nuovi spettacoli, a essere aperti alle emozioni che ci trasmettono e a condividere la bellezza del teatro con gli altri. È un tesoro che dobbiamo custodire e apprezzare. Sono d'accordo. Matteo, il teatro e i musicals continueranno a influenzare la nostra vita e ad arricchirci come individui. Spero che possiamo vivere ancora molte avventure teatrali insieme. Anche io, Alessia. Grazie per questa bellissima conversazione e per la condivisione della passione per il teatro. Spero che possiamo continuare a scoprire insieme le meraviglie del palcoscenico. Per favore metti mi piace e iscriviti al canale. Ci aiuta davvero molto. Grazie. Dialogo 5 Vacanze in famiglia parte 1 In questa conversazione, Marta e Luca parlano delle loro vacanze in famiglia e delle tradizioni che li rendono speciali. Condividono ricordi indimenticabili e riflettono sull'importanza del tempo trascorso insieme. Ciao Luca. Oggi vorrei parlare delle nostre vacanze in famiglia. Qual è la tua vacanza preferita con la tua famiglia? Ciao Marta. È difficile scegliere una sola vacanza preferita, ma una delle più memorabili è stata quando siamo andati al mare insieme. Abbiamo passato giornate intere sulla spiaggia, giocando, nuotando e godendo del sole. Mi piacciono molto le vacanze al mare. Luca. È meraviglioso trascorrere del tempo con la famiglia. Rilassarsi sulla spiaggia e creare ricordi gioiosi insieme. Hai ragione, Marta. Un'altra vacanza che ricordo con affetto è stata quando siamo andati in montagna. Abbiamo fatto escursioni, respirato aria fresca e ammirato panorami mozzafiato. È stata un'esperienza molto speciale. Amo le vacanze in montagna. Luca. L'aria fresca è pulita. Le passeggiate nella natura e l'atmosfera tranquilla rendono quei momenti unici e preziosi. Concordo pienamente, Marta. Una tradizione che amo durante le vacanze in famiglia è la preparazione del pranzo di Natale insieme. Tutta la famiglia si riunisce in cucina per preparare i piatti tradizionali e passiamo ore a condividere risate e buon cibo. La preparazione del pranzo di Natale è una tradizione meravigliosa. Luca. È un momento speciale in cui ci uniamo come famiglia. Condividiamo le nostre abilità culinarie e creiamo un'atmosfera di calore e amore. Esatto, Marta. Un'altra tradizione che mi rende felice è la vacanza estiva in campeggio. Montiamo le tende, facciamo escursioni, accendiamo il fuoco per cucinare e passiamo le serate raccontando storie intorno al fuoco. È un modo perfetto per connettersi con la natura e condividere momenti di gioia e avventura. Adoro le vacanze in campeggio. Luca. È un'esperienza unica dormire sotto le stelle. Ascoltare i suoni della natura e rilassarsi lontano dalla frenesia della vita quotidiana. È un momento di grande serenità e condivisione. Sono d'accordo, Marta. Le vacanze in famiglia ci offrono l'opportunità di creare ricordi indimenticabili e di rafforzare i legami familiari. Sono momenti preziosi che ci porteremo nel cuore per sempre. Hai ragione. Luca. Siamo fortunati ad avere la possibilità di trascorrere del tempo di qualità con la nostra famiglia durante le vacanze. Non vedo l'ora di condividere nuove avventure e creare nuovi ricordi con loro. Luca. Nella nostra ultima parte della conversazione sulle vacanze in famiglia. Mi piacerebbe sapere se hai altre tradizioni che amate condividere con i tuoi cari. Certamente, Marta. Un'altra tradizione che mi rende felice è la cena settimanale in famiglia. Una volta alla settimana ci riuniamo tutti intorno a un tavolo, condividiamo un pasto delizioso e parliamo delle nostre giornate. È un momento speciale di connessione e di condivisione. La cena settimanale in famiglia è una tradizione molto preziosa. Luca. È un'occasione per rafforzare i legami familiari. Ascoltarsi reciprocamente e mantenere una connessione solida nonostante gli impegni quotidiani. Concordo pienamente, Marta. Un'altra tradizione che amo è la vacanza annuale al mare con i nonni. È un momento in cui tutte le generazioni si riuniscono per godere del sole, del mare e della compagnia reciproca. È un momento di gioia e di condivisione intergenerazionale. La vacanza al mare con i nonni suona come un'esperienza meravigliosa. Luca. È bello vedere come le diverse generazioni si uniscano e creino ricordi indimenticabili insieme. È un modo per trasmettere tradizioni familiari di generazione in generazione. Esattamente, Marta. Un'altra tradizione che mi rende felice è la ricerca delle uova di Pasqua nel giardino di casa. È un momento di grande entusiasmo e divertimento, in cui tutta la famiglia si unisce per cercare le uova colorate e scambiarsi sorprese. La ricerca delle uova di Pasqua è una tradizione classica. Luca. È un modo divertente per celebrare la festa e coinvolgere tutti i membri della famiglia. Soprattutto i più piccoli. È un momento di gioia e di dolci sorprese. Sono d'accordo, Marta. Un'altra tradizione che amo è l'albero di Natale decorato in famiglia. Ogni anno ci riuniamo per adornare l'albero con luci, palline e decorazioni speciali. È un momento magico che ci mette subito nel mood natalizio. L'albero di Natale decorato è una tradizione che amo anche io, Luca. È un modo per creare un'atmosfera festiva e accogliente in casa. E per condividere la magia del Natale con i nostri cari. Sono felice che tu lo condivida, Marta. Continuiamo a celebrare le nostre tradizioni familiari e a creare momenti di gioia e di connessione. La famiglia è un tesoro prezioso e le tradizioni ci aiutano a mantenerla viva. Hai ragione, Luca. Le tradizioni familiari ci legano in modo speciale e ci permettono di creare ricordi indimenticabili. Non vedo l'ora di condividere nuove avventure e di rafforzare i legami con la mia famiglia. Luca. Nella nostra ultima parte della conversazione sulle vacanze in famiglia. Mi piacerebbe sapere se ci sono altri momenti speciali che hai condiviso con la tua famiglia. Certamente, Marta. Un altro momento che ricordo con affetto è la festa di compleanno di mia sorella. Ogni anno, ci riuniamo tutti per festeggiare il suo compleanno, regalare sorprese e passare una giornata piena di amore e di festa. La festa di compleanno di tua sorella suona come un'occasione meravigliosa. Luca. È bello vedere come la famiglia si unisca per celebrare l'amore e l'importanza di ciascun membro della famiglia. Concordo pienamente, Marta. Un altro momento che mi rende felice è la tradizione di cucinare insieme la cena della vigilia di Natale. Tutta la famiglia si riunisce in cucina per preparare i piatti tradizionali e trascorriamo ore a condividere risate, aneddoti e buon cibo. La preparazione della cena della vigilia di Natale è una tradizione molto speciale. Luca. È un modo per condividere le nostre abilità culinarie, rafforzare i legami familiari e creare un'atmosfera di calore e di amore. Esattamente, Marta. Un altro momento che amo è il nostro rituale della buonanotte. Ogni sera, ci riuniamo prima di andare a dormire per scambiarci abbracci, baci e auguri di una buonanotte. È un momento intimo e dolce che ci avvicina ancora di più. Il rituale della buonanotte è un momento prezioso. Luca. È un modo per concludere la giornata in modo amorevole e per assicurarsi che tutti si sentano amati e al sicuro. È un momento di connessione profonda tra i membri della famiglia. Sono d'accordo, Marta. Un altro momento che amo è il nostro tradizionale picnic estivo nel parco. Ci prepariamo un cestino con deliziosi panini, frutta e bevande fresche, e trascorriamo il pomeriggio all'aria aperta, giocando e godendoci la compagnia reciproca. Il picnic estivo nel parco è una tradizione che suona meravigliosa. Luca. È un modo per godere della natura. Condividere momenti di svago e rafforzare i legami familiari in un ambiente sereno e rilassante. Sono felice che tu lo condivida, Marta. Continuiamo a coltivare le nostre tradizioni familiari e a creare momenti speciali di gioia e di connessione. La famiglia è il cuore delle nostre vite e le tradizioni ci aiutano a tenerla forte. Hai ragione. Luca. Le tradizioni familiari sono un legame che ci tiene uniti e ci permette di creare ricordi preziosi. Non vedo l'ora di condividere nuove avventure e di coltivare le nostre tradizioni insieme alla mia famiglia. Per favore metti mi piace e iscriviti al canale. Ci aiuta davvero molto. Grazie. Dialogo 6 Un matrimonio da sogno. Marta e Luca discutono delle loro idee e temi preferiti per un matrimonio da sogno. Condividono le loro aspirazioni e discutono delle varie opzioni per rendere il giorno speciale. Luca. Sai cosa? Ho sempre sognato di avere un matrimonio da favola. Hai qualche idea su come renderlo unico e indimenticabile? Certo. Marta. Anch'io ho sempre desiderato un matrimonio speciale. Penso che il tema del matrimonio sia fondamentale per creare un'atmosfera magica. Hai qualche idea di tema che ti piace? Ho sempre amato l'idea di un matrimonio in stile vintage. Mi piace l'eleganza e il romanticismo di quel periodo. Immagino un matrimonio con tocchi retro e dettagli romantici. Mi piace molto l'idea, Marta. Potremmo utilizzare colori pastello e decorazioni vintage per creare un'atmosfera romantica. Potremmo anche organizzare una festa con musica swing e balli d'epoca. Sì. Esattamente. Mi piace l'idea di un matrimonio pieno di energia e allegria. Sarebbe fantastico vedere tutti i nostri amici e parenti ballare insieme e divertirsi. Allo stesso tempo, penso che un matrimonio a tema naturale possa essere molto affascinante. Potremmo organizzarlo all'aperto, circondati da alberi e fiori. Sarebbe davvero romantico e rilassante. Hai ragione. Luca, un matrimonio all'aperto potrebbe essere davvero suggestivo. Potremmo utilizzare materiali naturali per le decorazioni e creare un'atmosfera intima e rilassata. Un'altra idea che mi piace molto è un matrimonio in stile fiabesco. Immagina un luogo incantato, con luci soffuse e un tocco di magia. Sarebbe come un vero e proprio sogno. Oh. Sì. Adoro i matrimoni fiabeschi. Potremmo utilizzare luci a LED e dettagli scintillanti per creare un'atmosfera magica. Sarebbe davvero unico e indimenticabile. Sì. Marta. Penso che sia importante che il nostro matrimonio rifletta la nostra personalità e i nostri sogni. Dobbiamo scegliere un tema che ci emozioni e che renda la giornata ancora più speciale. Assolutamente. Luca. Un matrimonio è un momento importante nella vita di una coppia. E vogliamo renderlo indimenticabile per noi e per i nostri ospiti. Non vedo l'ora di continuare a pianificare tutto nei minimi dettagli. Sono d'accordo. Marta. Sarà un'esperienza emozionante organizzare tutto e vedere il nostro matrimonio prendere forma. Non vedo l'ora di scoprire quali altre idee avrai. Grazie. Luca. Spero che insieme riusciremo a creare un matrimonio da sogno. Siamo fortunati ad avere la possibilità di realizzare i nostri desideri e creare ricordi indimenticabili. Esattamente. Marta. Sono grato di condividere questo percorso con te. Siamo una squadra e insieme possiamo rendere il nostro matrimonio davvero speciale. Luca. Ho riflettuto sulle nostre idee per il matrimonio e penso che dovremmo anche prendere in considerazione il luogo della cerimonia e del ricevimento. Hai qualche idea in mente? Assolutamente. Marta. Ho pensato a diverse possibilità. Potremmo organizzare la cerimonia in una chiesa tradizionale o optare per una location all'aperto, come un giardino o una villa storica. Mi piace l'idea di una chiesa. Perché dà un senso di solennità e tradizione al momento. D'altra parte, un matrimonio all'aperto sarebbe più informale e rilassato. Cosa ne pensi? Sono d'accordo con entrambe le opzioni. Dobbiamo considerare anche il periodo dell'anno in cui vogliamo sposarci. Se fosse in primavera o estate, un matrimonio all'aperto potrebbe essere perfetto. Invece, se preferiamo un'atmosfera più intima, la chiesa sarebbe una scelta ideale. Hai ragione. Luca, dobbiamo tener conto delle stagioni e del clima. Inoltre, mi piacerebbe avere una festa di matrimonio piena di divertimento e delizie culinarie. Hai qualche idea sul cibo e la torta nuziale? Sì, Marta. Potremmo optare per un buffet con una varietà di piatti gustosi che accontentino tutti i nostri ospiti. Per la torta nuziale, potremmo personalizzarla con un design unico e i nostri gusti preferiti. Mi piace l'idea del buffet. Perché permette ai nostri ospiti di scegliere tra diverse opzioni. Per la torta, potremmo avere un'idea tematica che richiami il nostro stile preferito. Che ne dici di una torta decorata con elementi floreali? Mi piace molto l'idea, Marta. Una torta decorata con fiori sarebbe davvero elegante e romantica. Inoltre, possiamo aggiungere anche alcuni dettagli personalizzati che riflettono la nostra storia d'amore. Esattamente. Luca, voglio che ogni dettaglio del nostro matrimonio racconti la nostra storia. Dovremmo anche pensare all'abbigliamento per il grande giorno. Hai un'idea di come vorresti essere vestito? Penso che un abito elegante sia l'ideale per il giorno del matrimonio. Mi piace l'idea di un completo nero con una cravatta coordinata al tema del matrimonio. Cosa ne pensi del tuo abito da sposa? Sogno di indossare un abito da sposa principesco. Vorrei qualcosa di romantico e sofisticato. Magari con dettagli di pizzo e una lunga coda. Mi sentirei davvero una principessa? Sono sicuro che sarai una splendida principessa, Marta. Non vedo l'ora di vederti nel tuo abito da sposa. Sarà un momento emozionante per entrambi. Grazie. Luca, non vedo l'ora di condividere questo giorno speciale con te. Siamo fortunati ad avere l'opportunità di pianificare un matrimonio da sogno e celebrare il nostro amore. Sì, Marta. Siamo davvero fortunati. Sono grato di avere te al mio fianco in questo percorso. Sarà un matrimonio indimenticabile. Proprio come il nostro amore. Luca. Stavo pensando alle decorazioni per il nostro matrimonio. Vorrei che tutto fosse perfetto. Hai qualche idea su come possiamo rendere l'atmosfera magica? Assolutamente. Marta. Penso che le luci soffuse e le candele creino un'atmosfera romantica. Potremmo anche aggiungere dei fiori freschi come centrotavola e degli elementi decorativi che rispecchino il tema del matrimonio. Mi piace l'idea delle luci soffuse e delle candele. Creano un'atmosfera intima e accogliente. Dobbiamo anche pensare ai regali per gli ospiti. Cosa ne pensi di dare loro dei piccoli souvenir che ricordino il nostro matrimonio? Sì. Marta. Penso che dei piccoli souvenir siano un gesto carino per i nostri ospiti. Potremmo optare per dei segnalibri personalizzati o dei magneti da frigo con il nostro nome e la data del matrimonio. Mi sembrano delle ottime idee. Luca. I segnalibri sarebbero perfetti per i nostri ospiti amanti dei libri. Mentre i magneti da frigo sarebbero un ricordo utile e pratico. Saranno felici di portare a casa un pezzo del nostro matrimonio. Esattamente. Marta. È bello pensare ai dettagli che renderanno il nostro matrimonio unico e memorabile per tutti. Oltre a ciò, dobbiamo anche iniziare a pianificare la nostra luna di miele. Hai qualche destinazione in mente? Sì. Luca. Ho sempre sognato di visitare le Maldive. Le spiagge bianche e le acque cristalline sembrano il posto perfetto per una vacanza romantica. Cosa ne dici? Le Maldive suonano come una destinazione da sogno. Marta. Mi piacerebbe trascorrere del tempo con te in un luogo così paradisiaco. Possiamo rilassarci sulla spiaggia, fare snorkeling e goderci l'atmosfera esotica. Sì. Sarebbe meraviglioso. Luca. Possiamo anche prenotare una villa sull'acqua e svegliarci con una vista mozzafiato ogni mattina. Sarà un'esperienza indimenticabile per noi due. Non vedo l'ora di trascorrere la nostra luna di miele insieme. Marta. Sarà il modo perfetto per iniziare la nostra vita da sposati e creare ricordi indimenticabili. Sono d'accordo. Luca. Sarà un momento speciale per noi. Siamo fortunati ad avere la possibilità di organizzare un matrimonio da sogno e di goderci una meravigliosa luna di miele. Sì. Marta. Siamo davvero fortunati. Sono grato di averti al mio fianco in tutto questo. Non vedo l'ora di condividere questi momenti speciali con te. Anch'io. Luca. Il nostro matrimonio sarà un giorno meraviglioso e il primo passo di una vita insieme piena di amore e felicità. Per favore metti mi piace e iscriviti al canale. Ci aiuta davvero molto. Grazie. Dialogo 7 Tradizioni e festività culturali. Sara e Marco parlano delle tradizioni e delle festività culturali che amano. Condividono le loro esperienze personali e l'importanza di preservare le tradizioni culturali. Ciao Marco. Mi piacerebbe parlarti delle tradizioni e delle festività culturali che amiamo. C'è qualche festività speciale che ti viene in mente? Ciao Sara. Sì. Ci sono molte festività che mi piacciono. Una delle mie preferite è il Natale. È un momento in cui la famiglia si riunisce per festeggiare, scambiarsi regali e godersi deliziosi pasti. Sì. Anche per me il Natale è una festività molto speciale. Mi piace decorare l'albero di Natale e preparare dolci tradizionali come il panettone. È un momento in cui ci si sente uniti e si condivide la gioia della stagione. È vero, Sara. Le tradizioni natalizie sono davvero speciali. Mi piace anche la festa di Capodanno. Quando salutiamo l'anno vecchio e diamo il benvenuto a quello nuovo con fuochi d'artificio e brindisi. Assolutamente. Marco. Capodanno è una festa piena di speranza e nuovi inizi. Mi piace scrivere i miei propositi per l'anno nuovo e passare la serata con gli amici. Parlando di festività. C'è qualche tradizione particolare che fai durante l'Epifania? Sì. Durante l'Epifania prepariamo la famosa torta chiamata la Befana. Dentro la torta, c'è una sorpresa e chi trova la sorpresa nella sua fetta viene chiamato Re Maggio, per il giorno. Che bel modo per celebrare l'Epifania. Mi piacciono queste tradizioni che coinvolgono la famiglia e creano momenti di gioia. Invece, hai qualche festività preferita che non è legata alla religione? Sì. Mi piace molto il carnevale. Durante questa festività, si possono vedere sfilate di costumi e maschere colorate per le strade. È un'occasione per divertirsi e lasciarsi trasportare dall'atmosfera festosa. Sono d'accordo. Il carnevale è divertente. Mi piace vestirmi con costumi e maschere e partecipare alle feste e ai giochi organizzati in quel periodo. È un'occasione per lasciarci andare e divertirci insieme. Esatto. Marco. Le tradizioni e le festività culturali ci permettono di connetterci con le nostre radici e di celebrare la diversità. È importante preservarle e trasmetterle alle generazioni future. Sono completamente d'accordo, Sara. Le tradizioni ci ricordano chi siamo e da dove veniamo. Dobbiamo apprezzare e rispettare le diverse culture che ci circondano. Assolutamente. Marco. Le tradizioni e le festività ci offrono un'opportunità per imparare gli uni dagli altri e celebrare insieme. Sono momenti preziosi che creano legami e ricordi duraturi. Grazie per questa bella conversazione, Sara. Mi hai fatto riflettere sull'importanza delle nostre tradizioni e festività. Non vedo l'ora di continuare a parlarne e scoprire nuove tradizioni. Grazie anche a te, Marco. È stato davvero interessante condividere le nostre esperienze e scoprire quanto le tradizioni siano importanti per entrambi. Continuiamo a esplorare e imparare insieme. Assolutamente. Sara. Scoprire nuove tradizioni e celebrare la diversità ci arricchisce come individui. A presto. A presto. Marco. Continuiamo a celebrare le nostre tradizioni e ad apprezzare la bellezza della diversità culturale. Ci vediamo presto. Ciao Marco. Parlando di festività. Mi piacerebbe sapere come celebri la Pasqua. Ciao Sara. Per me, la Pasqua è una festività molto importante. Solitamente, partecipo alla messa di mezzanotte per festeggiare la resurrezione di Gesù Cristo. In famiglia, ci scambiamo auguri di buona Pasqua e condividiamo un pranzo speciale. Anch'io partecipo alla messa di Pasqua e mi piace l'atmosfera di gioia e speranza che si respira. Dopo la messa, organizziamo una colazione abbondante con pane tradizionale pasquale e uova colorate. È bello sapere che condividiamo alcune tradizioni di Pasqua, Sara. Mi piace anche il fatto che la Pasqua sia un momento per essere con la famiglia e riflettere sui valori di amore e perdono. Assolutamente, Marco. La Pasqua ci ricorda l'importanza della rinascita e della speranza. È un momento di rinnovamento e di riflessione spirituale. Cambiando argomento, mi hai detto che ti piace anche il Carnevale. Mi piacerebbe sentire di più su come lo festeggi. Certamente. Marco. Durante il Carnevale, si organizzano sfilate, feste in maschera e giochi di gruppo. Mi piace vestirmi con costumi colorati e indossare una maschera divertente. È un'occasione per lasciarsi trasportare dalla fantasia e divertirsi insieme agli amici. Suona davvero divertente. Nel mio paese, durante il Carnevale, si svolgono anche gare di carri allegorici e si lanciano coriandoli e stelle filanti per le strade. È un momento di allegria e spensieratezza. Sì. Il Carnevale è proprio così. È una festività in cui ci si può divertire senza preoccupazioni e creare ricordi indimenticabili. È bello vedere le strade piene di colori e di persone felici. Concordo pienamente, Sara. Le tradizioni e le festività culturali ci offrono un'opportunità per esprimere la nostra creatività e celebrare la nostra identità culturale. È importante preservarle e trasmetterle alle future generazioni. Sono d'accordo con te, Marco. Le tradizioni ci legano alla nostra storia e alle nostre radici. Sono un ricordo vivente della nostra cultura e ci aiutano a comprendere meglio noi stessi e il mondo che ci circonda. Esattamente, Sara. Le tradizioni sono come un legame che ci unisce alla nostra comunità e ci rende consapevoli delle nostre radici. Dobbiamo mantenerle vive e condividerle con orgoglio. Hai ragione, Marco. Preservare le tradizioni culturali è un modo per onorare il passato e costruire un futuro in cui la diversità sia apprezzata e rispettata. Grazie per questa piacevole conversazione, Sara. Mi hai fatto riflettere sull'importanza delle tradizioni e delle festività culturali. È bello poter condividere queste esperienze con te. Grazie anche a te, Marco. È stato un piacere discutere delle nostre tradizioni e festività preferite. Continuiamo a valorizzare e preservare le nostre radici culturali. Assolutamente, Sara. Sono entusiasta di continuare a esplorare e scoprire le tradizioni culturali che ci arricchiscono come individui. A presto. A presto, Marco. Continuiamo a celebrare la diversità culturale e a imparare gli uni dagli altri. Ci sentiamo presto per nuove conversazioni interessanti. Ciao, Marco. Parlando di tradizioni, vorrei sapere come celebri il Natale nella tua famiglia. Ciao, Sara. Il Natale è una festa molto speciale per me. La mia famiglia e io decoriamo l'albero di Natale e facciamo un presepe. Alla vigilia di Natale, festeggiamo con una cena tradizionale, che include pietanze come il panettone e il torrone. Anch'io amo il Natale. Anche nella mia famiglia decoriamo l'albero e facciamo un presepe. Durante la cena di Natale, gustiamo piatti tradizionali come il cotechino e il pandoro. È bello sapere che condividiamo alcune tradizioni natalizie, Sara. Mi piace anche il fatto che il Natale sia un momento per riunire la famiglia e condividere momenti di gioia e amore. Assolutamente, Marco. Il Natale ci ricorda l'importanza della famiglia e dell'amore reciproco. È un momento per mostrare gratitudine e generosità verso gli altri. Cambiando argomento, mi piacerebbe sentire come viene celebrata la festa nazionale nel tuo paese. La festa nazionale è un momento di grande orgoglio per noi. Organizziamo parate, eventi sportivi e fuochi d'artificio. Inoltre, indossiamo abiti tradizionali e partecipiamo a concerti e spettacoli per celebrare l'identità nazionale. Nel mio paese, la festa nazionale è anche un'occasione per riunirsi e celebrare la nostra storia e cultura. Organizziamo sfilate con costumi tradizionali, si svolgono giochi e competizioni e si gustano piatti tipici della nostra cucina nazionale. Concordo, Sara. Le festività e le tradizioni culturali sono una testimonianza dell'unità e della diversità delle nostre comunità. Ci aiutano a comprendere meglio il nostro passato e a costruire un futuro in cui la diversità sia valorizzata. Esattamente. Marco. Le tradizioni e le festività ci legano alla nostra storia e alle nostre radici. Sono una parte fondamentale della nostra identità e ci aiutano a costruire un senso di appartenenza e orgoglio. È stato un piacere discutere delle nostre tradizioni e festività culturali preferite, Sara. Mi hai fatto riflettere sull'importanza di preservare e valorizzare la nostra cultura. Grazie anche a te, Marco. È stato interessante scoprire le tue tradizioni e confrontarle con le mie. Continuiamo a celebrare la diversità culturale e ad imparare l'uno dall'altro. Sono d'accordo, Sara. L'apprezzamento delle tradizioni e delle festività ci permette di ampliare le nostre prospettive e di connetterci con il mondo che ci circonda. A presto per nuove avventure culturali. A presto. Marco. Non vedo l'ora di scoprire ancora di più sulle tradizioni culturali che arricchiscono la nostra vita quotidiana. Ci risentiamo presto per nuove conversazioni interessanti. Sarà un piacere, Sara. Continuiamo a celebrare la diversità culturale e a condividere le nostre esperienze. A presto. Grazie mille per aver guardato il nostro video. Non dimenticarti di mettere mi piace e di iscriverti al canale. Grazie e a presto. Grazie mille per aver guardato il nostro video.